Salve a tutti ragazzi, sono Luigi di Non Solo Trash, in diretta da casa mia. Bene ragazzi, come vi avevo promesso, vi parlerò del sequel di Two-Headed Shark Attack. Benissimo! Come voleva dimostrarsi, appunto, dopo qualche anno, perché ci hanno messo un po' per realizzarlo, perché forse qualcuno dirà, eh vabbè, l'avranno realizzato con un po' di tempo, chissà, se l'hanno realizzato con un po' di tempo vuol dire che l'hanno fatto meglio. In effetti un pochino meglio è del predecessore, in un certo senso, anche perché questo è il primo sequel di questa saga degli squali a tante teste, perché comunque poi, come vi ho detto già nel video precedente, ci saranno altri film che hanno realizzato, ovviamente, uno l'anno scorso e uno deve uscire quest'anno, dove ci sono gli squali a cinque teste e a sei teste. Io veramente sono senza parole. Però comunque, dicevo, se c'era questa attesa che magari potevamo pensare, ma sì, dai, sicuramente ci hanno messo di più a realizzarlo perché è venuto meglio, chissà. Come ho già detto, effettivamente un po' meglio è, diciamo, rispetto al suo predecessore, ma il regista è sempre lo stesso, il budget stavolta addirittura è sconosciuto, quindi proprio hanno evitato di scriverlo sui vari siti per evitare probabilmente che magari qualcuno potesse dire eh, hanno speso forse un po' di più del milione che hanno speso nel film precedente, quindi vuol dire che il film ha sempre lo stesso risultato, quindi... Eh, però, come dicevo, il risultato stavolta è decisamente migliore del precedente. Perché? Perché se forse nel primo... Anzi, forse, sicuramente nel primo era... tutto risultava... tutto praticamente si dimostrava essere amatoriale. Qui sembra quasi più cinematografico, in un certo senso, proprio leggermente, ma non tanto. Nonostante sia comunque un prodotto televisivo, eh. Però comunque, dicevo, nonostante sia un film televisivo, ha qualche di cinematografico in più che non aveva Two-Headed Shark Attack, naturalmente. Perché comunque lo stesso regista, Cristo Ferrei, stavolta, forse, non lo so, eh... Nonostante sia il budget sconosciuto, penso che un po' di grana in più ci avevano. Infatti hanno chiamato un grande artista, che poi comunque vi dirò successivamente chi è, ma sapete già chi è, se avete visto La Locandina o anche comunque il film, chi l'ha visto, chi è stato più masochista e quindi se l'è voluto vedere, sia se il Two-Headed Shark Attack e anche il Three-Headed Shark Attack, può capire benissimo di chi sto parlando. Però comunque dicevo che praticamente la storia del film è praticamente una specie remake del primo, del primo, praticamente. Ci sono questi ragazzi d'università, una roba del genere, che sono portati su quest'isola, su un'isola dove c'è un'equip medica che si sta occupando, praticamente dell'inquinamento di questi mari dei Caraibi, non ho capito bene dove sia situato. Comunque in ogni caso ci sono questi scienziati qua che stanno praticamente studiando il livello di inquinamento nelle acque di questo posto, in questo luogo caraibico più o meno. Credo sia caraibico comunque, o alebamas, non lo so, non ne ho idea. Comunque in ogni caso vanno questi studenti qui per andare a vedere come lavorano. Incappano in questo squalo gigantesco, anche esso molto grande, dovrebbe essere un qualcosa tipo 15 metri probabilmente, che è già provvisto di tre teste, quindi praticamente potrebbe essere il diretto discendente del primo squalo che abbiamo visto nel Two-Headed Shark Attack, naturalmente. Quindi sicuramente è una specie di figlio o, non lo so, forse parente, non lo so, coniuge, non ne ho idea. Quindi di conseguenza c'è questo squalo qui che comincia a distruggere su quest'isola, cioè si butta letteralmente sull'isola, che comunque è un atollo alla fine, distrugge un po' tutto, insomma, ammazza un po' di persone che vanno in bagno, che stanno addirittura delle strutture sott'acqua, nonostante l'acqua lì si alta più o meno un due metri, non di più, cioè non mi spiego com'è, comunque in ogni caso, praticamente il film ruota attorno di nuovo alla stessa storia del primo film, solo che in questo caso è sempre comunque un survival movie, dove ci sono i protagonisti di turno che, in questo caso ragazzi, insomma, professori, studenti, che devono avere a che fare con questo squalo a tre teste, geneticamente modificato dall'inquinamento, appunto, prodotto da questo mare qua, che nonostante l'inquinamento che dicono che ci sia nel film, io non lo vedo, cioè, insomma, è un'acqua piuttosto pulita, molto limpida, c'è qualche lattina di Coca-Cola in acqua, ma niente di più, qualche cartaccia, però non credo che bastino soltanto un paio di cartacce di plastica o robe del genere, o lattine o bottigliette di plastica per far raggiungere un livello tale di inquinamento da addirittura far uscire non due, ma bensì tre teste a uno squalo bianco comune, che nuota tranquillamente lì, in quella zona lì, insomma, cioè, non mi riesco a spiegare questa cosa qua, però comunque in ogni caso vedremo anche un'altra sottotrama, dove c'è praticamente un gruppo di persone, tre persone più o meno, che stanno su questa barca da pesca d'altura, che praticamente vengono contattati dai nostri protagonisti che li dicono, perché riescono a salvarsi tipo su una barca, no? Allora ci sono questi protagonisti qua che dicono, aiuto, ci sta inseguendo uno squalo a tre teste, se non ci credete, e a tre teste ve lo ripeto, insomma, ci sono dialoghi di questo livello, insomma, battute e dialoghi scritti probabilmente da... Tra l'altro ho letto, scusate se mi interrompo, ma perché ho letto che praticamente gli sceneggiatori di questo film qua esistono, e sono ben due stavolta, quindi è un film che è stato scritto a quattro mani addirittura, cioè io mi sono stupito, ho detto come? Due sceneggiatori per scrivere un film come questo? E ci vuole così tanto? Cioè io avrei chiamato il figlio del regista per fare la sceneggiatura, il figlio piccolo di cinque anni per fare la sceneggiatura di questo film qua, invece qua ce ne sono venute due persone, probabilmente da 30, 40 anni, 50 anni, non ne ho idea di quanti anni abbiano, però sicuramente ci sono voluti quattro mani per scrivere una sceneggiatura, e chiamarla sceneggiatura, perché quello che abbiamo di fronte non è neanche lontanamente una sceneggiatura, però alla fine. Comunque dicevo no, praticamente ci sono questi dialoghi scritti veramente malissimi da questa sceneggiatura proprio mal scritta, però effettivamente devo ammettere che in questo caso, dicevo, la regia è molto più... non è così tanto amatoriale come nel primo film, effettivamente. Come stessa cosa per gli effetti speciali che sono decisamente migliorati, effettivamente forse con il progredire della computer grafica, perché comunque nel primo film si faceva anche uso di pupazzoni nascosti da inquadrature rapidissime, e in questa cosa qua c'è soltanto computer grafica, qua così, bella, nature senza aver intaccato più che altro, senza dare i fassi dello spettatore, per non dargli l'impatto che quello che stiamo vedendo è finto. Cioè noi dobbiamo sapere già fin dall'inizio che tutto quello che vediamo è finto, quindi a prescindere, anche perché comunque sarebbe inverosimile vedere uno squalo a tre teste, e per lo più anche a cinque o a sei teste, quindi potete ben immaginare. Non so perché però hanno saltato quello a quattro teste, non lo so, non gli piacciono i numeri dispari, pari, non lo so, perché prima hanno cominciato con i numeri pari, poi sono passati solo i numeri dispari, e adesso di nuovo i numeri pari, ma vabbè. Comunque in ogni caso sono un po' pazzi, insomma. E dicevo, la sceneggiatura qua è inesistente naturalmente, però dicevo, la regia è decisamente migliore, con inquadrature che, devo ammettere, sono ben ricercate, alcune, però se non ci fosse dietro questo regista qui, sicuramente credo che non... Io credo che questo regista qui, se avesse avuto un budget decisamente migliore, sicuramente avrebbe potuto realizzare qualcosa di accettabile, carino. Questo film qua è carino, ma non tanto, per i miei gusti personali, perché io amo alla follia i film di squali, lo sapete meglio di me probabilmente. Infatti, infatti, quando le persone mi fermano per strada, dicono, ah, ma sei tu quello dei film di squali che recensisci sul tuo canale? Sì, sono io. Infatti, veramente, io amo tantissimo questo genere di film qui. E ovviamente non potevo non parlarvi di questo film qui. Volevo già parlarvene all'epoca, però, volevo trovare proprio il momento giusto, il momento propizio per parlare di un film come questo, veramente. Però arriviamo al piatto forte del film. Gli interpreti. Abbiamo Karuki Tran, che l'abbiamo vista in un cameo in The Nice Guys, che farà qualche anno, anzi, proprio l'anno successivo, a She-Headed Shark Attack. E troviamo, per giunta, Rob Van Damme, che voi direte chi è? È un wrestler. Hanno chiamato un wrestler a fare una parte nel film, che, tra l'altro, ha fatto parecchi camei in piccoli film o telefilm, americani, ovviamente, che non sono mai arrivati in Italia. però devo ammettere che lui, veramente, è qualcosa di, mamma mia, proprio, cioè, come posso dire, è l'inespressività persona. Sì. Non sa recitare, perché effettivamente un wrestler non è che lo puoi costringere a recitare, come se nulla fosse. Perché comunque, in questo caso qua ho notato una presenza maggiore maschile e una presenza minore femminile, quindi credo che in questo caso qui probabilmente hanno deciso che forse magari è meglio evitare di mettere troppe ragazze in bikini, come è successo con She-Headed Shark Attack, perché sicuramente lo spettatore si fissava troppo su quei dettagli lì e non sul film stesso. Anche perché comunque credo che l'effetto sia proprio il contrario. Però, in ogni caso qui hanno proprio deciso di eliminare parzialmente l'elemento femminile, giusto per non, cioè, proprio per tenere comunque a livello, no, un equalizzato, diciamo, il testosterone maschile e quello femminile, più che altro, una cosa del genere. Però comunque dicevo, no, questo wrestler qui, che tra l'altro è famoso in America, non so perché, però in ogni caso è abbastanza inespressivo, però è un mito, veramente, io lo adoro tantissimo, veramente, fa proprio di quelle battute che proprio, mamma mia. E poi ci abbiamo anche Jena Sims, o Jena Sims, non so come si pronuncia in ogni caso, che tra l'altro ha partecipato in un film, credo, dell'asylum, cioè, già rido al pensiero del titolo, perché veramente appena l'ho letto il titolo, non potevo crederci, Attack of the 15th Foot Sheer Leather, per chi non avesse capito, in italiano sarebbe l'attacco delle cheerleader giganti, alte, 15 metri e mezzo, me lo sono anche segnato, perché non volevo fare brutta figura, sul fatto che si cambi tra i piedi e i metri, quindi insomma, già potete immaginare il livello del film, che tra l'altro ho scoperto che in questo film qui, c'è anche Sean Young, quella di Blade Runner, e io mi chiedo, come abbia fatto a finire da Blade Runner a qui, posso capire, magari uno scivolone nella carriera cinematografica, però così proprio stiamo esagerando, però comunque arriviamo veramente al piatto forte, proprio al fiore all'occhiello di questo film qui, perché io lo adoro solo per questo personaggio, attore, che sta in questo film qui, lo sapete già chi è, ve l'ho detto nel video precedente, Danny Treggio, o me lo noto come Macete, io lo chiamo Macete, perché adoro tantissimo i due film di Macete, di Rodriguez, insomma, sono bellissimi, li adoro, sono dei capolavori, e poi Danny Treggio, mamma mia, o Treggio, non so come si pronunci in ogni caso, è un mito assoluto, io lo reputo il Chuck Norris del nuovo millennio, dopo che Chuck Norris ormai, ormai, dopo Walker Texas Ranger, non esiste più, anzi esiste, però in realtà le battutine su di lui adesso sono un po' sparite, però secondo me Danny Treggio è il suo degno erede, veramente, assolutamente, assolutamente, Danny Treggio qui fa una parte veramente bellissima, interpreta nuovamente il ruolo del messicano, che si trova su questa barca qui, con questi due tizi, che sono, non ho capito bene se sono bracconieri o roba del genere, oppure stanno pescando d'altura semplicemente, che incappano nel tree-headed shark attack, dopo non aver creduto ai ragazzi che dicevano, ci stanno attaccando, c'è uno squalo di Atletese che ci sta attaccando, loro non ci credono, però poi guarda caso, dopo vengono attaccati anche loro, da questo tree-headed shark, e naturalmente l'unica cosa che poteva dire Danny Treggio è, madre dei Dios, sparandogli tutto il caricatore dalla pistola ovviamente, non contento, fa una cosa che non dovrebbe fare, tagliare con un macete, un macete normalissimo, un macete così, non grandissimo, insomma, comunque uno che forse probabilmente ha usato nei film di macete, effettivamente, e taglia una delle tre teste del tree-headed shark, effettivamente, pericolo scampato direte voi, col cavolo dico io, perché effettivamente, che succede? quando arriva la scena, proprio arriva l'epicità, il regista, Christopher Ray, proprio c'è la smorza così, pum, e ci dà proprio quello schiaffo morale che proprio non vogliamo avere, la sberla, come si suol dire, che cambia la storia da così a così, cioè, lo squalo, questo fantomatico squalo qui, che apparentemente risultava morto, ed era appoggiato semplicemente, appoggiato, non che affondato la barca, perché la barca è una piccola, insomma, lo squalo è gigantesco, più grande della barca, appoggiato proprio sulla prua della barca, senza affondarla, arriva, il suddetto squalo, dopo essere tagliato la testa, apparentemente in stato di morte, si risveglia, con altre tre teste, nel punto in cui ha tagliato una testa, quindi già in questo film qui possiamo avere l'onore di conoscere già il Five-Headed Shark, cioè lo squalo a cinque teste, e proprio, e in questo caso qui, mentre lo squalo si gira, praticamente per buttarsi in acqua, ammazza il povero Danny Trejo, proprio una scena orribile, povero Danny Trejo, proprio l'unica cosa che poteva salvare il film era lui, e l'hanno praticamente, io non capisco, veramente Danny Trejo secondo me poteva salvarlo il film, l'ha fatto fino a un certo punto, uccidendo lo squalo con il macete, che già con il macete normale, a uccidere, proprio a tagliare una testa, così, senza motivo, vabbè, in ogni caso, mi dispiace veramente tanto che questo personaggio qui sia stato tagliato dalla sceneggiatura, dopo neanche metà del film, però in ogni caso abbiamo l'onore di vedere, praticamente per l'altra, per la seconda parte del film, questo Five-Headed Shark, cioè questo squalo a cinque teste, che ha queste teste un po', cioè da quanto ho capito, cioè da quel che ho capito, questo squalo qui ha tre teste, come l'idra, cioè nel senso se ne tagli una testa, ne scompaiono altre due, in ogni caso, in questo caso qui, ne sono coparse tre, quindi già cinque teste, quindi se ne tagliate, cioè, come si risolve la situazione? Ve lo spoilero, perché tanto so che non lo vedrete mai, e ve lo sconsiglio naturalmente, però se i più masochisti di voi lo vogliono vedere o l'hanno già visto, fatti i vostri, non è colpa mia, non venite a lamentarvi poi, che l'avete visto, dicevo no, praticamente l'idea geniale è questa, aumentiamo il livello di inquinamento nelle acque, così lo squalo comincia a impazzire, perché vedono, non so come fanno, però c'è tipo una scena dove loro vedono che, siccome c'è una barca a motore, tipo una di quelle grandi, che sta facendo un sacco di inquinamento, vedono che lo squalo comunque comincia un po' a impazzire, comincia a distruggere tutto, comincia a far affondare questa barca qui, morre uno dei personaggi principali, e robe del genere, e che succede? Lo squalo comincia a impazzire, quindi loro dicono, aumentiamo il livello dell'inquinamento, non mi ricordo come fanno, però lo fanno in ogni caso, lo squalo preso talmente tanto dalla frenessia proprio di divorare cose a random, comincia a divorarsi tra sé, quindi le tre teste al centro, cominciano a divorarsi l'una con l'altra, e le altre due teste cominciano a fare altrettanto, quindi alla fine si può dire che in questo caso qui, la natura ha ucciso se stessa, uccidendo questo squalo qui, però effettivamente è questo il finale del film, cioè questo squalo qui muore da solo, cioè si uccide da solo praticamente, si suicida, in un impeto proprio di frenessia, proprio dell'inquinamento, proprio, sì, è anche carino questa, è anche carina questa critica, che il regista vuole mandare sull'inquinamento delle acque, che possono nascere degli aborti del genere, posso ben capirlo, però potevo capire magari se era una critica intelligente all'inquinamento, o comunque a, che ne so, alle scorie nucleari, che comunque negli atolli, sapete, no, negli atolli bichini, là sono accadute queste cose qui, insomma, potevo capire se era tipo una critica, come hanno fatto con i film di Godzilla, cioè nel film, il film Godzilla di Shiro Honda, la critica era alla bomba nucleare, che venne buttata su Hiroshima e Nagasaki, nel 45, il 6 agosto del 45, naturalmente, le radiazioni atomiche hanno fatto, praticamente, risvegliare questo mostro atomico, insomma, un dinosauro che si era, si era addormentato, insomma, nelle viscere della Terra. Potevo capire una cosa del genere, però, in un film come questo, una critica così, insomma, sì, mi fa piacere assolutamente, però, è stata sfruttata male questa critica che hanno fatto, ma vabbè, io, comunque, che altro dirvi su questo, su questo, sì, alla fine, Five Headed Shark Attack, però, insomma, Three Headed Shark Attack, barra Five Headed, quindi, non so che altro dirvi, perché effettivamente, l'ho apprezzato maggiormente, in confronto al predecessore, gli do mezzo voto in più, cioè 3, alla fine, come voto finale, ha una regia migliore, degli effetti speciali decisamente migliori, una sceneggiatura purtroppo rimasta, ai tempi, come nel predecessore, naturalmente, e, ovviamente, una fotografia, anch'essa, decisamente migliore, del precedente, perché, come ho già detto, era piuttosto amatoriale, il primo, questo è un po' più televisivo, barra cinematografico, leggermente, non è che voglio esagerare, però, leggermente, è questo il succo, quindi, che altro, alla fine, posso dirvi su questo film qui, tranne che, statevene alla larga come il suo predecessore, perché, comunque, non ne vale la pena, di perdere un'altra, un'altra ora e mezza della vostra vita, per vedervi un film del genere, e per chi l'ha già fatto, fatti i suoi, io voglio parlarvi anche dei due sequel, che hanno realizzato, uno l'anno scorso, e uno quest'anno l'hanno realizzato, che deve ancora uscire, comunque, credo che uscirà, nello stesso periodo di, The Last Sharknado, It's About Time, quindi, che altro posso dirvi, se non che, rimanete sintonizzati sul mio canale, e ci rivediamo, in un'altra prossima recensione, ragazzi, ciao a tutti!